Manca ormai una settimana all'inizio della adunata triveneta degli alpini che si terrà dall'8 al 10 di luglio ad Asiago e le penne nere della sezione Monte Ortigara sono a lavoro da mesi per la buona riuscita del raduno. In alto piano arriveranno decine di migliaia di alpini con le famiglie, tanti simpatizzanti e amici e un volume che si preannuncia notevole di turisti e visitatori. Sicuramente ne aspettiamo tanti, penso a 15.000 alpini presenti sull'altipiano, sempre se il tempo è buono che ci aiuta, che sono belle giornate come oggi. Ci sono moltissime incombenze logistiche per la gestione di un simile evento ma gli alpini di Asiago non si fanno certo spaventare. Stiamo organizzando parcheggi, i vari posti dove andiamo a mandare la gente anche a dormire, la sanità, un po' in generale un po' di tutto. Il conto alla rovescia è partito e già l'emozione è fortissima in alto piano e in tutto il Veneto. Sì è una grande emozione e un grande orgoglio di avere questo raduno qua da noi in questa nostra terra sacra degli alpini per ricordare che qua negli anni della grande guerra è stato combattuto in qualsiasi metro di terra.